Una bambina di 7 mesi di Gubbio è ricoverata a causa di una meningite. Ieri è stata portata dai genitori all'ospedale di Gubbio Guadotadino dopo un consulto con una pediatra. La piccola, vista le sue condizioni, è stata trasferita all'ospedale di Perugia dopo le prime cure e le prime analisi. Nella mattinata di venerdì 21 giugno i referti hanno evidenziato una meningite batterica da melingo cocco, ma deve essere ancora stabilita la tipizzazione di tipo B o C. Sono state avviate le procedure per la profilassi di tutti i contatti. Secondo quanto è riferito successivamente dall'ufficio stampa dell'ospedale di Perugia, la bambina sta rispondendo bene alla terapia ed è già molto migliorata.